Non c'è parola che possa esprimere in modo adeguato l'orrore che invade l'animo di fronte a così efferata crudeltà. Un nuovo atto di spietata violenza si aggiunge ai molti che hanno insanguinato l'Italia in questi anni, che in questo momento tanto dedicato della vita del Paese la reazione a questo gesto faccia convergere l'impegno di tutte le persone di buona volontà nella riaffirmazione dei valori della giustizia, della pacifica convivenza e della solidarietà che costituiscono il patrimonio più vero del caro popolo italiano.